La storia più grande del comedi. Per dirgli che ci sta in giro una persona ignota che è pronta a fare una straccia. Ti rendi conto, zini, che lei non ha nessun elemento per sostenere una cosa del genere? L'avvocato sei tu, quindi come possiamo riunirci? Non lo so. E dai, tazzo! Dai, cazzo, Vittorio! Non si può! L'ideale sarebbe stato non rivedervi in un libro. Non, non, non vi spaventate. Lui è l'unico che ci può aiutare. Ripartiamo da cosa che sappiamo fare meglio, che è? La banda larga. Sarebbe la prima erasione nerd della storia. Si è portato via, cario. Ma io ancora non ho capito queste gomme che ci dobbiamo fare. L'esposivo è tagliato con materiale, passi e appiccicoli. Con goglia della gomma. Però poi resteranno solo più o meno 72 ore. Nella varo bastaria. Dietro Zinni con tutta la sua banda evasono da fare delle Biblie. Non lo so, forse cosa di grosso, di epocale. Ti prego, per favore, lasciami andare. Io lo posso fermare. Per una volta che possiamo fare qualcosa di importante nella nostra vita. Inoltre, sono stati aiutati aiutati e potrebbero salvare l'Italia? Walter è stata la banda. Quelli non perdono mai. Quando si può perdere, i miei amici che si tratta. Qua dice, prende la stomaco pieno. Che faccio? Lo piglio? No, no. No, no. Medici e cura di... Oh! No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Grazie.